run run tutti che scappano raga mi girò le palle per sta cosa ok di averla spostata egregiamente ma raga ma che cazzo sta facendo sto cosa ci credo ragazzi ho sbloccato la slitta di babbo natale con non lo so delle galline legate dal culo non so da cosa benvenuti a tutti quanti siamo su un nuovo videogioco do the theft wars mitico videogame per android ragazzi già il balletto del tipo in bianco la sa lunga ma io direi di non perdere tempo partiamo subito con lo start andiamo subito a vedere le basi di questo e cosa fa molla le sberlette ragazzi molliamo le sberlette a schiaffetti chaff chaff oh no ha preso il cestino della frutta ragazzi ok sono riuscito a lanciarlo ma di poco proprio ok siamo entrati in casa ragazzi c'è un mega pollo arrosto un tacchino qua si può aprire però ogni tanto se ne va via c'è il bagno è fatto bene possiamo anche saltare ma cos'è questo proprio no ragazzi dite che bacchettata ci tiro la macchina ci possiamo entrare possiamo anche guidare non ci credo mamma mia ora entro in casa di sti dove sono finito c'è qualcosa di strano ragazzi ecco qua cos'era successo pezzente di una macchina ah qua con il cellulare possiamo farci arrivare oh ragazzi ho sbloccato la lamborghini ciucciandomi un bel video pubblicitario però mi sono ciucciato la lamborghini pezzente di merda pezzente inseguiamolo subito ragazzi tanto gliene diamo anche se quella lì è una bella macchina subito a costa mi sono impiantato raga come una merda era lì era lì l'ho visto usciamo eccolo qua eccolo qua no raga ha girato difficile che lo riprenderemo avrà girato infatti capolinea possiamo comprare questo garage per 3500 ero veramente impaziente di leggere il biglietto era per questo che mi sono schiantato c'è il nostro raga no adesso spariamo una bella nossata vai vediamo un attimo wow c'è scritto quanto va e beh stiamo andando raga ora che li finisca la mappa infatti frena 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 no continuava c'era la spiaggia ok vai così velocità della luce le nuvole volevo toccare le nuvole vediamo non ce la faccio peccato riesco di ruoteare che mi sto divertendo ok questa cosa fanno oh ma tutte queste persone di merda incontro io sono incompetente mi attiro qui adesso la becco guarda eh olè pipip pomme pure money 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 si è incassata la macchina non ci credo raga mi gira le palle per sta cosa ok vedete di averla spostata egregiamente oh raga mi sono preso lo skateboard non ci credo ma che che fa sul rumore pure il simbolo della portiera per entrare sullo skate o quel che vedo raga c'ho il nostro raga sullo skate però non trovo la rampa eccola lì chi è che suona raga ma che che ma raga ma che cazzo sta facendo sto coso dai ma non ci credo basta calmati da chi cazzo è che suona pista ci vale di nozze e olè guardate qua che schifo vai di nozze che schifezza che faccio fa schifo lui comunque raga non si riesce a girare ecco sa pure ma da dov'è chi gli suona questa trombetta dal culo la mcfly siamo veramente quanto sta andando 50 km orari ne ha 40 60 via ok prendiamo qualcos'altro subito ci credo ragazzi ho sbloccato la slitta di babbo natale con non lo so delle galline legate dal culo non so da cosa no no lancio pure i regali e la notte le 24 sta arrivando babbo natale per dare i doni in città vediamo subito ecco qua c'è anche il nostro natalizio attenzione perché babbo natale ha bevuto del cognac al posto del latte perché vediamo subito qua sta facendo delle pirouette ok sono uscito sono apparse le galline sono anche in versione babbo di merda ok mi lancio fine di babbo natale basta babbo natale guardate lì raga oppure ucciso un poliziotto che correva nell'acqua doveva essere teoria acqua questa ma aiaia ci stanno a uccidere raga stavano per arrestare ok mi sono salvato con la bomba ballerina che fa ballare tutti sono stato arrestato non so da chi perché i poliziotti stanno ballando paghiamo la cauzione ma che gioco ragazzi e si balla bella bro guardate lì come se la divertono si due se la intendono proprio eh va bene siamo arrivati ragazzi quindi al dipartimento di polizia vediamo subito qua che ci sono dei poliziotti che stanno facendo delle belle cose quello lì fa il gangalstein questo qui mi sta guardando lo sposto anche oh ripiglati fratello ripiglati vai vai e mi guarda minaccioso parte la challenge delle sberle raga e come sapevate vi ho vinto io oppa ganga stai ciao 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 guardatelo no no ok c'è chi so scusa lo salvo ma chi so scusa c'è qualcuno che sta esagerando cos'è sta roba il furgoncino degli dog me lo sono chiulato io non c'è neanche più quello che lo stavo guidando ma quello lì dove arriva un ubriaco NOS andiamo a servire subito gli hot dog ragazzi non volevo e me ne vado me ne lancio pure vediamo qua tutto il volo pom compriamoci qualcos'altro dai bombazza mi son preso il car armato stavolta facciamo i seri qua raga o non la trovi o la trovi questa rampa eh la prendo vai che l'ho presa vai che l'ho presa vai shot in aria ho lanciato ragazzi un missile ho lanciato beccato che non si è distrutto qua niente ragazzi lancio i missili cioè cosa incredibile cosa incredibile non so quanti ne possa avere non c'è scritto sto attaccando proprio il dipartimento di polizia ragazzi nessuno mi dice niente e vabbè e quello lì ancora chi fa il ganga style ancora ancora lì che ballava guardate quella lì come vola ho preso ma adesso l'abbiamo preso e come no eccolo ok vai così già mi piace vai oh 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 raga questo qua mi picchia fratello ma è restato raga di nuovo ok con i nostri belli capelli siamo già pronti per uscire fuori ma attenzione ragazzi perché tra il cazzeggio e non cazzeggio ci sono anche delle missioni all'interno di questo fantastico mondo possiamo anche notare si notano ecco qua parte il video raga cioè dai non ci credo che l'ha trovato hey jack where have you been a summer di talk to kyrill no raga wow ogni volta che si entra lì parte quel dannato video ah frate che è successo oh te stai con un piedi di porco scioppiamo subito qualche bella macchinina ole allora vediamo cosa che ho preso un bel calderone il mio bel mezzo ragazzi un bel calderone fatti felicissimo di avere il calderone parte anche abbiamo anche il nos diamo subito a parlare con kyrill se ce la facciamo frutto dei sette mari ragazzi siamo arrivati da kyrill finalmente ecco qua e noi scendiamo dal nostro veicolo non so perché devo scendere in questa maniera ogni volta aspetta ragazzi siamo davanti a kyrill ragazzi dobbiamo prendere la macchina li lancio i soldini li lancio pezzi di merda sono pure i miei soldi non lo sapevo dobbiamo andare a prendere la macchina che sta dietro la stazione di polizia vedete bring car from behind the police station tap to ride basta tutti con il suo sole ogni volta parte a chi schiaffeggia di più la challenge degli schiaffi schiaffi challenge attenzione ho vinto ho vinto ragazzi e l'ho fatto proprio anche proprio bene possiamo prendere anche i corpi ragazzi c'è sta uno che stava guarda adesso abbiamo finito con i con gli schiaffeggi oh madonna tutti che scappano ragazzi sto capiranno questo fatemi capire fammi capire che poi lo prendo ragazzi e via la vastità di arsenale che si può comprare dal gun shop abbiamo lanciarazzi una machine gun l'M16 uno sniper una trombetta e una piccola pistolina però 567 monetine comunque quindi ragazzi bisogna anche farsi io ho solo 120 monete non ci posso fare niente quindi ragazzi dovrei andare a prendere la macchina per continuare la storia ma voglio terminare qui l'episodio di oggi per sapere anche da voi se vi può interessare di portare avanti una piccola serie su questo videogioco veramente strampalato quindi ragazzi mi raccomando un bel like un commentino e ci vediamo alla prossima ciao